Benvenuti a Lazio News, il vostro punto di riferimento per le ultime notizie sul calcio. Assicuratevi di mettere un mi piace e iscrivervi al canale per restare aggiornati su tutte le novità riguardanti la Lazio. Salutato ufficialmente dal Real Madrid, Isco è pronto a tornare in campo. Il talentuoso giocatore spagnolo ha recentemente parlato del suo ritorno e ha suscitato speculazioni sul mercato delle trasferimenti, suggerendo un possibile passaggio alla Lazio, il club italiano. Isco è conosciuto per la sua abilità tecnica e la visione di gioco. Ha avuto esperienze di rilievo con il Malaga e ha conquistato numerosi titoli con il Real Madrid, tra cui quattro titoli della UEFA Champions League. Tuttavia, nelle ultime stagioni, il centrocampista ha perso spazio nella formazione titolare e sta cercando nuove opportunità in un altro club. Fin da quando il suo nome è emerso come possibile rinforzo per la Lazio, i tifosi del club bianco celeste si sono entusiasmati all'idea di avere un giocatore del calibro di Isco. Il suo arrivo potrebbe portare un aumento di qualità al centrocampo della squadra, aggiungendo creatività e visione di gioco al sistema tattico. E voi, tifosi bianco celesti, cosa ne pensate di Isco come possibile rinforzo? Lasciate la vostra opinione nei commenti, poiché è molto importante per la Lazio.